Manca ancora l'ufficialità, ma le voci si rincorrono e il sindaco Diego Ferrara è già pronto a scendere in piazza chiamando a raccolta l'intera città e altri comuni limitrofi. Il motivo? Il possibile trasferimento di servizi sanitari e uffici dall'ex ospedale pediatrico di Chieti ad Atessa, scelta che non va giù agli amministratori comunali, visto che, dice l'assessore alla sanità Fabio Stella, anche altri servizi importanti di diverso genere sono stati trasferiti. Sono delle voci molto insistenti negli ultimi tempi per spostare tutto il servizio di igiene, quello veterinario, forse anche la diabetologia, per cui disagio sia per i cittadini ma anche per i lavoratori che si ritroveranno questi uffici a 70 km di distanza. Se la struttura attuale è vetusta, esiste in città un altro edificio che possa ospitare tali servizi sanitari? Sì, l'ex Santissima Annunziata è un grosso edificio, ma se c'è la volontà si può trovare tutto. Recentemente abbiamo avuto la notizia della neuropsichiatra infantile ad Atessa, è un'operazione che sta indebolendo la sanità di Chieti, in generale ricordiamoci la vicenda del distretto sanitario di Chietiscalo che è stato chiuso tre anni fa e ancora viene riaperto. Il trend degli ultimi anni, prosegue l'assessore, è quello di indebolire l'area Chietina. Il canile sanitario di Bucchianico è stato chiuso, non è stato riaperto e adesso è solo a Lanciano, come la chiusura dell'ospedale di Guardia Grede. Sembra che tutta l'area Chietina viene in qualche modo penalizzata, come se ci fosse una strategia per essere inglobati a Pescara e ricostituire l'asile Anciano-Rasto. Quindi chi viene penalizzato è il territorio di Chieti e tutti i cittadini di Chieti. Cioè lei parla ipoteticamente di un'asile unica Chieti-Pescara? A mio avviso è questo il trend, è quello che si sta tentando di fare, che il centro-destra cerca di fare. Pescara viene continuamente potenziato e Chieti viene continuamente depotenziato sia l'asile che i servizi territoriali. Io credo che non dobbiamo stare in silenzio come comunità teatina, ma anche tutto ciò che è attorno a Chieti si dovrà muovere per cercare di in qualche modo avere questi servizi sanitari che sono importantissimi per i cittadini.